L'obiettivo nostro era di vincere a tutti e tre, la prima ieri l'abbiamo persa contro il Pressano, una squadra di categoria, oggi siamo partiti di mare ancora una volta, 9-1, 8-1, 8 gol sotto il primo tempo era quasi impossibile, però abbiamo messo tutto il nostro meglio e alla fine siamo riusciti, la vittoria lo capolesca è un momento in inaspettata, abbastanza meno voluta per tutti i 60 minuti. Più che calo fisico, calo mentale, ci sono stati 15 minuti che siamo calati mentalmente e questo ci ha distrutto, abbiamo perso palloni, loro sono andati in contrapiede e a noi purtroppo sono andati in battaglia, siamo una squadra molto giovane, per fortuna abbiamo creato un bel gruppo, quindi in questo modo sono felice, sono veramente felice. Ci dispiace, perché giocare per la finale se ci portavo a posto, a mio parere, è scontante come cosa.